La prima serie europea della storia della Major League Baseball si è compiuta Yankee, Serie e Sox hanno dato vita a una partita veramente spettacolare che ha fatto conoscere finalmente il baseball anche oltreoceano e per la prima volta possiamo raccontare per immagini quello che è successo nelle due partite dell'Olympic Stadium di Londra Ai microfoni Matthew Thorgaard prima di iniziare il video recap della London Series fatemi ringraziare per la gentile concessione delle immagini il mio coach Mike Sainz insieme a un altro mio compagno di squadra Emilio sono andati fisicamente all'Olympic Stadium di Londra e quelle che vedete sono le loro immagini della loro postazione di quello che è stato evidentemente un grandissimo evento per tutti i tiposi europei e non solo per la prima volta vi dicevo la MLB ha sbarcato in Europa a sede l'Olympic Stadium di Londra che di norma è un campo da calcio casa del West Ham United l'MLB in realtà già questa stagione ha espatriato ha fatto partite in Giappone, ha fatto partite in Messico ha giocato anche a Omaha, Nebraska città dove si tengono storicamente le College World Series ma le London Series erano sicuramente l'evento mediatico a oggi più chiacchierato e più importante quale migliore evento se non far giocare Boston Red Sox e New York Yankees quindi due squadre in piena rivalità da sempre vedete che c'era il tutto esaurito perché entrambe le partite come si vedono dalle immagini nei miei compagni di squadra sono state previste 60.000 persone in totale a vedere entrambe le partite e piccolo spoiler anche l'anno prossimo ne riparleremo di questa London Series perché ci è stato trovato l'accordo per il 2020 immagini come vedete veramente spettacolari si poteva girare per tutto il campo sia ovviamente durante la partita sia durante le sessioni d'allenamento qui vediamo il campo adibito alla pratica dell'allenamento di battuta il batting practice che viene fatto come riscaldamento prima di ogni partita qui in battuta al riscaldamento sono i Boston Red Sox le conoscete dalla divisa rossa mentre vedete in fondo al campo sulla parte laterale i New York Yankees in divisa Blue Navy vedete qui invece un'altra prospettiva delle immagini in questo caso siamo nel campo esterno prima invece eravamo ovviamente con una visione frontale al campo che per vedere le partite di baseball sono dal mio punto di vista una delle migliori quando io sono andato a vedere i Mets dal vivo ero a una visione frontale simile a quella di Mike ed Emilio vedete qui invece un'altra visuale c'era lo stadio veramente pieno sono state due partite spettacolari che appunto non hanno deluso i tifosi europei c'è anche un contributo prima di passare all'analisi delle partite a video il nostro Mike mi ha portato un contributo filmato vedete qui questo è un riscaldamento per quanto riguarda i lanciatori Christian Vasquez è il ricevitore che riceve le fastball del lanciatore partente e al di là della schermata di Movie Maker che è interessante è particolare che appunto si possa girare per tutto il campo a vedere addirittura le fasi di riscaldamento così tanto da vicino Christian Vasquez che ha giocato entrambe le partite partite che hanno visto trionfare i New York Yankees ma non in un modo banale sono state partite veramente spettacolari questo che vedete è l'articolo della prima partita che si è svolta il giorno 29 giugno gli Yankees in un totale di 30 punti complessivi battono i Red Sox nel primo match 17 a 13 una partita veramente spettacolare e non poteva che essere questo secondo me uno spot meraviglioso per questo bellissimo sport che è il baseball per tutti i tifosi di oltreoceano partita che si conclude come vedete 17 a 13 con un primo inning da spavento 6 punti per parte con Boston che la pareggia con un super fuoricampo c'è un altro big inning da 6 punti nella parte alta del quarto che di fatto insieme al terzo e al quinto concretizzano un allungo degli Yankees che totalizza 17 punti nei primi 5 inning quindi a metà partita poi un altro big inning da 6 punti di Boston al settimo tenta un'incredibile rimonta rimonta che non riesce nonostante 19 vai a 18 gli Yankees vincono la prima partita analizziamo per il dettaglio però quello che è stato il tabellino della partita lo vediamo con il box score lo vedete qui l'MBP sicuramente degli Yankees è stato il primo imbattuto DJ Le Maillieu che vedete ha fatto 6 apparizioni al piatto 5 RBI con 4 valide veramente Le Maillieu sta vivendo una stagione di grazia allucinante per Boston c'è stato un signor attacco 18 valide quello che però fa un po' più discutere della formazione di Boston sono sicuramente il parco lanciatori soprattutto i rilievi questo soprattutto nella seconda partita tornando nella prima vediamo un po' come è andata in generale dal punto di vista offensivo ci sono stati tantissimi fuoricampo soprattutto vi dicevo negli inning dove entrambe le squadre hanno segnato 6 punti Aaron Hicks sesto fuoricampo stagionale nel primo inning su Rick Porcello che era partente con un uomo in base e un out Gardner ne spara un altro al terzo il dodicesimo stagionale su Stephen Wright che sarà il lanciatore perdente della partita Aaron Judge che ritornava da un grande infortunio spara al quarto inning un altro fuoricampo per dunque tornare all'attivo nella formazione degli Yankees vi parlavo del fuoricampo che aveva pareggiato la partita al primo inning e l'ha realizzato Chavez due ne ha realizzati uno al primo inning il quattordicesimo e appunto il quindicesimo nel settimo inning su Cortez Junior anche Jackie Brady Junior fa un altro fuoricampo il nono in questo caso al sesto inning altro inning dove i Boston Red Sox hanno provato una rimonta che poi in realtà non è riuscita capitolo lanciatori andiamo a vedere come si sono comportati è andato molto male Masiro Tanaka è durato veramente due eliminazioni questo 0.2 vuol dire che non ha completato nemmeno un inning anche perché ha subito sei punti in tutta questa sua esperienza è salito Green che è risultato il lanciatore vincente Hale ha fatto un inning e ha mantenuto il vantaggio così come Cortez Junior male Tommy Canley che ha fatto un lancio e ha preso una vaida praticamente tengono buono il risultato sia Adamo Tavino che Zach Britton e chiude il missile cubano Haroldis Chapman seconda vittoria stagionale per Green che di fatto con la sua prestazione mantiene la squadra in vantaggio e gli Yangs non molleranno più il vantaggio fino alla fine se anche il partente degli Yankees Tanaka ha fatto male il partente di Boston Rick Porsello di gara 1 ha fatto peggio perché in un'eliminazione soltanto 0.1 in inglanciati ha subito anche lui sei punti e quindi partenti che non sono stati un fattore la partita si è giocata evidentemente con il monte dei rilievi tanto è vero che appunto hanno ruotato talmente tanti lanciatori che probabilmente tra un po' lanciava anche il pubblico ma comunque Porsello male Brewer chiude l'inning per quello che può entra Stephen Wright che risulta il lanciatore perdente perché appunto da una situazione di pareggio con lui sul monte di lancio i Boston Red Sox subiscono i punti decisivi per la sconfitta e poi vi avviate tutti gli altri con Schwerin che lancia un inning e un terzo Taylor due eliminazioni Brazier un inning Velasquez due e Walden chiude con un punto subito i Boston Red Sox hanno avuto e hanno ancora un problema di rilievi rilievi che saranno in realtà decisivi nella seconda partita seconda partita che vincono gli Yankees soprattutto in un settimo inning da 9 punti che permetta alla formazione del Bronx di mettere la freccia e sorpassare la formazione del Massachusetts gli Yankees vincono in questo caso 12 a 8 Boston addirittura fa più valide rispetto agli Yankees ma non basta a battere i Bronx Bombers ci sono anche due rughe difensivi per parte e questa è una partita ancora più particolare perché Boston in questo caso era in vantaggio fino al sesto inning come vedete per 4 a 2 poi gli Yankees fanno i Bronx Bombers per davvero mettono 9 punti Boston poi tenta l'ennesima rimonta segnando 4 punti nell'ottavo inning però ovviamente non riesce la rimonta e dunque vincono gli Yankees 12 a 8 vi dicevo il problema dei rilievi si è evidenzato tantissimo nella seconda partita e adesso vedremo perché il box score lo vediamo e andiamo a vedere ovviamente come sono comportati gli attacchi soprattutto per quanto riguarda l'attacco con i fuoricampo Boston ne spara fuori veramente tantissime perché Bogers al primo inning fa il 16esimo fuoricampo stagionale seguito da JD Martinez il cleanup della formazione di Boston che fa il 18esimo e anche Christian Vasquez che abbiamo visto prima riscaldarsi nel video di Mike spara l'undicesimo fuoricampo tutti al primo inning Gregorius spara l'ottavo fuoricampo il terzo fuoricampo scusatemi all'ottavo inning ed è l'unico fuoricampo della formazione degli Yankees passiamo al discorso lanciatori anche in questo caso è stata una partita molto strana perché appunto i partiti degli Yankees così come gara 1 hanno fatto male perché Tarplay ha lanciato un inning soltanto e ha subito i 4 punti di qui sopra Luis Sessa invece tiene fermi l'attacco dei Boston Red Sox per 4 inning entra poi Adam Ottavino che risulta il lanciatore vincente perché poi nell'inning successivo all'entrata del numero 0 gli Yankees faranno i punti decisivi giocano anche Tommy Calle un inning Adams 0.2 inning Zach Britton un'eliminazione e chiude ancora una volta il missile cubano a Roldis Chapman il partente di Boston invece Eduardo Rodriguez si comporta bene per i suoi standard subisce 2 punti lancia 5 inning a un terzo 5 strike out e 4 basi ball e 4 vai è una prestazione così scarsa è una prestazione comunque importante Brewer tiene in vantaggio i Boston Red Sox nelle sue due eliminazioni la partita la perde Walden prima sconfitta stagionale e qui si evidenzia ancora una volta i problemi del bullpen ovvero il monte rilievi dei Boston Red Sox Walden di fatto subisce i punti decisivi lo vediamo non effettua nemmeno un'eliminazione subisce 3 valide subisce 4 punti di cui tutti guadagnati su di lui una base ball e poi da lì è di fatto le catombe perché anche Barnes Matt Barnes subisce 3 punti Taylor ne subisce 1 e Brewer ne subisce 1 solo poi chiude Steven Wright il lanciatore perdente di gara 1 con l'ultimo inning insomma per una volta che il partente di Boston Eduardo Rodriguez aveva fatto bene il monte rilievi purtroppo la butta via soprattutto nel settimo e ottavo inning che arrivano i 10 punti decisivi per la vittoria degli Yankees comunque è stato sicuramente un bellissimo spot per il baseball in generale vi dicevo ci sono state 60.000 persone presenti all'Olympic Stadium Olympic Stadium che sarà anche la sede di una prossima London Series nel 2020 e questa è già una notizia importante ci sarà un'altra grande rivalità in questo stadio vedete che il 13 e 14 giugno 2020 ci sarà un'altra grande rivalità nella Major League Baseball St. Louis e Chicago Cups si affronteranno il 13 e 14 giugno all'Olympic Stadium St. Louis e Chicago sono due squadre della National League Central che sono molto rivali soprattutto quando si sono affrontati ai playoff non ci sono stati dei precedenti diciamo troppo felici soprattutto nel 2015 quando i Cups batterano i Cardinals per poi andare ad affrontare i Mets di Daniel Murphy che all'epoca era veramente un semidio sarà una partita sicuramente affascinante per tutti i tifosi europei quindi scegliatevi già l'appuntamento il 13 e 14 giugno Olympic Stadium di Londra ci sarà un'altra London Series da seguire in tutto e per tutto nel frattempo congeliamoci dalla prima London Series della storia con i New York Yankees che effettuano lo sweep 2 a 0 sui Boston Red Sox con partite veramente spettacolari a deltissimo punteggio il saluto da parte di Matthew Todger ci vediamo a fine settimana con un altro video sulla Major League Baseball di San Francisco che subito di San Francisco